Grazie a tutti. 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 a tutti. che è tutto un pochino più difficile e quindi nervoso e quindi bisogna cercare anche altre vie per cavarsela di questi tempi. E questo secondo brano invece è una sottospecie di blues suonato con un impulso irene proprio della tradizione del jazz del nord d'Europa. Ora continueremo con un brano che è un esperimento tra le ritmiche arbo, utilizzato sulla prima parte della composizione, delle ritmiche drum and bass e una seconda parte sulla beat, la composizione delle ritmiche sempre con le polimetriche di 5 quarti. Interverrò con un solo di batteria. Grazie tanto. Grazie a tutti. 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 a tutti.